Ben trovate cari amiche, ben trovati cari amici per un nuovo appuntamento di Rubino Immobiliare News, il podcast della Rubino Immobiliare. Quest'oggi con me c'è Andrea Rubino, il presidente. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, il tema di oggi è un tema molto interessante, il marketing per vendere casa. Sappiamo bene che ormai da almeno dieci anni il web è diventato un elemento imprescindibile per fare qualsiasi cosa e ovviamente anche per vendere casa. Innanzitutto è corretto parlare di marketing per vendere casa? O bastava come prima fare un annuncio su un giornale? No, ecco, dobbiamo distinguere quello che può essere il marketing e quello che può essere la pubblicità. La pubblicità è un'azione, quindi è una strategia che viene usata. Però, ritornando a quello che può essere il significato di marketing, ecco, viene dall'inglese, tu me lo insegni, e tu market, e comunque significa porre sul mercato, quindi tutte quelle che sono le iniziative di porre sul mercato, in questo caso un bene immobile. Chiaramente quindi noi ci occupiamo, diciamo, chi si occupa della compra vendita immobiliare, ben detto, occorre fare tutta un'attività di marketing immobiliare. Non serve più stampare i volantini e affiggerli sui pavi, giusto? Ebbè, quella è un'attività che si faceva molti anni fa, ma indipendentemente da quelle che sono le attività, poi occorre, diciamo, per poter fare una buona compra vendita immobiliare e cercare di avere il miglior prezzo possibile, occorre fare, ecco, una effettiva attività di marketing immobiliare e usando, o intanto facendo un'analisi di quel che è il prodotto, in questo caso il bene che viene messo in vendita, dopodiché usare tutte le strategie e dopo, chiaramente, passare all'operatività. Ora, noi nel campo della rubina immobiliare, il marketing immobiliare lo pratichiamo da oltre, diciamo, da quando siamo nati, 40 anni fa, con tutto quel che potremmo essere i mezzi di 40 anni fa, ma oggi, come oggi, siamo molto evoluti, perché usiamo tutte le attività e tutti i mezzi pubblicitari possibili. Diamo qualche suggerimento a chi ci sta ascoltando e sta vendendo casa da privato. Anche l'occhio per la sua parte è sempre una frase che ha senso. Beh, certamente sì, certamente sì. Quindi, ecco, quando io parlo di analisi e strategie, ecco, occorre innanzitutto porre in vendita l'immobile presentandola nel migliore dei modi, e quindi lo si può fare materialmente, ma anche con tutto quel che può essere immagini virtuali, e quindi create in laboratorio, ma più che altro per far vedere come può essere, come può diventare immobile dopo una ristrutturazione, o comunque anche tutto un piano di arredamento ad hoc. Quindi, ecco, bisogna operare con la massima professionalità, ma prendendo tutti quelli che sono i mezzi che dopo portano a un'attività di marketing efficiente ed efficace. Gli scatti fotografici sono importanti? Eh sì, è tutto importante, dalle foto che dobbiamo essere professionali. Ecco, noi per esempio, da un paio di anni a questa parte, usiamo un macchinario ultramoderno che si chiama Matterport, è un macchinario che oltre a fare delle fotografie, o meglio, fare dei filmati ad altissima definizione, ma permettono anche la possibilità da parte dell'utente, del cliente, anche di misurarsi le stanze come vuole. Sono tutti immagini tridimensionali. Questo è uno dei mezzi, ma noi in alcuni casi, ecco, parlando dell'analisi di mercato, sulle ville, su proprietà dove è bene far vedere un po' tutto anche l'esterno, usciamo i droni. Ecco, noi mettiamo a disposizione tutti i mezzi che possono portare alla valorizzazione di un immobile. Un ultimo segreto da svelare, la vendita di una casa si crede erroneamente che riguardi tutti, in realtà l'acquirente è solo uno, quindi la tipologia è ben definita, no? Nell'attività di marketing, quindi nell'analizzare un po' anche quel che è, e può essere il probabile acquirente, che occorre anche qualificare, o meglio, prequalificare il cliente, ecco, noi avendo una banca dati, anche abbastanza corposa, ecco, possiamo tranquillamente andare a individuare quello che è il cliente giusto, quindi ogni cliente, diciamo, ha la casa giusta. Va bene, grazie per essere stato con noi e alla prossima.